Sessore Frangi oggi ha incontrato la delegazione dei lavoratori di Capannella, guidatori, allenatori, allevatori. Qual è la situazione e cosa si può fare per accelerare il procedimento che possa far ripartire Capannella al più presto? Da un punto amministrativo la situazione di oggi è la stessa dello scorso anno di due anni fa. Ippogruppo, il concessionario, può far ripartire le corse anche immediatamente. Quindi esiste una soluzione immediata? Già esiste e sta in capo a Ippogruppo decidere se far ripartire o meno le corse. Noi siamo in contatto continuo con il Ministero con il quale appunto siamo allineati proprio per favorire la ripresa delle corse. Per noi, come per il Ministero, come per tutti quanti è prioritario mantenere Capannella attiva. Capannella è uno dei centri sportivi ippici più importanti in Italia. Ricordiamo che un qualsiasi indebolimento della struttura, se non addirittura la chiusura, sarebbe un danno non solo per Roma, ma per tutto il sistema nazionale. Quindi da questo punto di vista l'obiettivo è convergente. Proprio per velocizzare, come dice lei, ho accolto favorilmente la proposta arrivata oggi dagli operatori e immediatamente convochiamo un tavolo con tutti i soggetti. Vale a dire il Ministero, la Regione, naturalmente noi di Roma Capitale, tutti gli operatori, i lavoratori di Ippogrupp, Ippogrupp stessa e tutte anche le cooperative che lavorano dentro e fuori i Capannella collegate. Ecco, a questo punto partirà una convocazione già tra oggi e lunedì e quindi a brevissimo avremo un confronto su ogni singolo punto. Ecco, le chiedo solo l'ultima cosa. Il contenzioso con Ippogrupp è relativo a questo famoso canone di affitto. Lei può ribadire qui che al momento non è il problema che ha bloccato le corse di Capannella? Via Roma di Anni è un contenzioso tra Ippogrupp e Roma Capitale. C'è stato un ricorso al TAR e nel merito si andrà nel 2020. Quello è un contenzioso tra i due. Per quanto riguarda invece l'importo della concessione, il Roma Capitale ha ritirato in autotela un atto che richiedeva i famosi 4 milioni di euro. Quell'atto quindi non esiste più e quindi non c'è più questa richiesta da parte di Roma Capitale a Ippogrupp. E quindi da questo punto di vista, ripeto, si può tranquillamente riprendere le corse già a partire da oggi, se non da ieri. Grazie, perfetto. Grazie.